Mussolente, il paese si conferma cerniera tra Trevigiano e Vicentino, presentata ad Asolo la roadmap per la candidatura delle terre di Asolo e Monte Grappa a riserva della Biosfera Unesco. Questo in occasione della prima edizione del Festival Emozioni Venete, dedicato alla promozione del turismo nelle terre di Asolo e del Monte Grappa, cui hanno partecipato oltre 10.000 visitatori.